Benvenuti nel mondo degli orologi Quinting. Gli orologi Quinting sono un marchio svizzero di orologi di alta gamma, noto per la loro innovazione nel campo degli orologi a quadrante invisibile. Questa tecnologia brevettata consente di nascondere il movimento dell'orologio e di rendere il quadrante completamente trasparente, mostrando solo le lancette in movimento. Questo crea un effetto di profondità e trasparenza unico nel suo genere, che rende gli orologi Quinting unici e inimitabili. Gli orologi Quinting sono realizzati a mano dai maestri orologiai svizzeri, utilizzando solo materiali di alta qualità, come oro, platino, diamanti e altre pietre preziose. La collezione di orologi per uomo e donna comprende diversi modelli con quadranti trasparenti, incastonati con diamanti e altre pietre preziose. Ogni orologio è un pezzo unico, realizzato a mano con cura e attenzione ai dettagli. Il design elegante e raffinato degli orologi Quinting è un altro aspetto che li rende molto apprezzati dagli appassionati di orologi di lusso. I modelli per uomo presentano cinturini in pelle o in acciaio inossidabile, mentre i modelli per donna presentano cinturini in pelle, in acciaio o in oro. L'eleganza e la raffinatezza degli orologi Quinting li rendono adatti a qualsiasi occasione, dal lavoro alle occasioni speciali. Quinting è anche noto per le sue collaborazioni con designer e artisti di fama mondiale per creare collezioni esclusive di orologi. Ad esempio, il marchio ha collaborato con l'artista russo Mikhail Baryshnikov per creare una collezione di orologi ispirata alla danza. Queste collaborazioni rendono gli orologi Quinting ancora più unici e interessanti per i collezionisti di orologi. Se stai cercando un orologio di lusso unico, elegante e di alta qualità, gli orologi Quinting potrebbero essere una scelta interessante da considerare. Grazie alla loro innovazione tecnologica e al loro design raffinato, questi orologi rappresentano un vero e proprio gioiello da polso. Grazie a tutti.